Chiamata al pollo di servizio Narada 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 Chiamata al podio per Andrea Capretti Altrezzo, fine di scopa Felice Maurizio, al Tata 3 Altrezzo, chiamata al podio per Amici Uniti e Francesco Bona Al Tata 1 Luca Bacino, Luca Bacino a scatare il muro. Al voglio Ariti e Francesco Borghi. Al voglio Ariti e Francesco Borghi. Al voglio Ariti e Francesco Borghi. Un minuto, Luca Borghi. Al voglio Ariti e Francesco 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 Borghi. Almeno Mario Pellegrini, Luca Bellagene, Sergio Blasseri, Gerardine Coppa, Marco Peccari, Andrea Bonzo, Isaac Abadol, Dianne Basti.